Adesso mi metto a minare la Countryman, vediamo un pochetto... Subito! Subito! Zitto! Zitto che la prendo! Il primo colpo? No, che sfiga! Fuck! Pensa bene! Non ci credo! Cioè, hai appena avviato la registrazione! Eh, non sarebbe stata male l'avessi presa subito! Dai che sta andando bene sto pomeriggio! Ieri è stata una cosa schifosa, magari oggi... Ci siamo messi a minare le Zembo! Madonna! Eh? Per depressione! No, ma faccio anche questi video, sai perché? Perché tanti scrivono... Eh, ma io non la trovo! Eh, ma non c'è! Eh, ma io sono stato ore! Eh, ma come si prende! Eh, ma qui! Eh, ma su! Eh, ma giù! Le risposte sono sempre solo quelle, devi provare, pazienza! Ci va pazienza, si sta lì e si riprova! E molti credono, vado lì e la prendo! Eh, le palle! Durano due secondi circa le aste di autorare! Quindi bisogna avere la botta di culo di trovarle e di essere i primi a prenderle! E ci va! Sì, come quello lei che sulle aste qua sul server ha scritto... Io non la trovo all'asta, la appollo! Sì, sì, ma anche nei commenti del video mi scrivono così! Uno mi ha scritto... Che cazzo dici? Se non fai una macro non si riescono a prendere! Sono ignorante! Quindi adesso sono quelli che mi fanno venire nervoso! Una macro sarebbe solo dei comandi automatici che ti fa il PC, no? Che sarebbero forse il limite del ban, secondo me! Sì, sì! Ah, sbagliato! Convertibile, no! Però dico, no! L'ho fatto vedere come la prendo, poi ci sono tanti altri che riescono a prenderle, quindi... Ci va pazienza, solo quello! Sì! Mannaggia, me la sono lasciato sfuggire! Perché, perché? L'hai fatto veloce? È abbastanza, sì! Ma comunque anche in queste c'è una competizione assurda! Ma secondo me ce ne sono poche di queste! No, anche più che altro non me l'aspettavo la prima volta che l'ho aperta! Non mi aspettavo di vederla, sai com'è! Che poi, secondo me, tantissimi sono youtuber, eh! Sì? Lo dici? Eh, secondo me sì, eh! Tantissimi sì! Il fatto di riuscire a portarlo prima che esca nel gioco può essere un bel vantaggio per alcuni! Sì! Tu cosa mini? Io? Sì! La mini countryman! Si vede che è riuscita a passarla perché non l'ha più rimessa! Sto maledetto! Sto infame! Per lui solo qua ne saranno! Giusto! Tanto, anche se la vedo, cioè non la riuscirai a prendere! Perché? No, perché? Non lo so! Vabbè! Di queste qua! Allora, Lea le carica quando sono già sul mini country! Vabbè! Se hai problemi di connessione è un altro discorso! Eh! Fa tipo un bel giro prima che si carica! Diciamo che oggi, per fortuna, funziona! Non ho problemi di lag, ma ieri c'avevo quel lag lì assurdo che boh! Del gioco, eh! Sì! Non mi manca mai a volte succede! Sì, ma ieri è andato avanti per diverse ore! Ah, ma Weetron c'è ancora! Sì! Sì, non l'ho sentito a stiera! No, non l'ho sentito! Stranamente silenzioso! Sì, oggi è tranquillo, sì! Questo è da strano! Weetron ti ha mollato la tipa! Ci ha dato giù quando uno è tranquillo perché ci ha dato giù! Ah, guarda! Allora, sono lei quasi 18, eh! Oh, il treno per una volta non ha sparato una cavolata! Ha detto che si comprava Forza Motorsport 7 e se l'ha comprato! Eh, devine! Una volta! Vorrei fare una battuta ma non la faccio! Dico! Eh, no, non la faccio! Eh, vabbè! Ogni sera vuoi fare una battuta! Eh, no, non la faccio! Anche perché poi sto registrando! Eh, anche qui! Eh, ma tu vedevi di... Eh, eh! Sì, infatti, ora devi dire! Ormai! No, non posso! Dopo, dopò quando finisce di arradi! Dico, ma perché stai... ho capito! Eh! giusto sì sì ovvio vediamo quello che pensiamo dai dai sono stato velocissimo sono stato veloce sono stato veloce ma vieni in sette minuti in sette minuti oggi spacco tutto in questa casa te lo giuro che distruggo l'Xbox non ce l'ho l'Xbox io no la mia brucio oh ma che botta di culo che c'hai cioè due macchine in mezz'ora neanche ci manca che prendi pure la trevella siamo al posto bene bene sono contento guarda lì guarda lì l'altra l'ho presa alle 17.46 e questa alle 17.59 quindi bene ne ho viste quattro due le ho prese due le ho perse non questione di connessioni dico proprio di vederle di si diciamo quattro sono già un buon numero ora ti prendi la trevella avrei fatto proprio un una combo perfetta adesso stacchiamo questo video qui e facciamo l'ultima la trevella oh ce n'è una ce n'è una non è vero ho fatto io nel momento in cui l'hai detto bugiardo presa ho sbagliato ma dici presa sulla base di che cosa mannaccia ma quale cosa stai minando ho sbagliato ho preso la mini trevella quella normale ce n'era solo una pensavo che era quella rara non ci credo ma dai no peggio di trueno questo peggio di trueno non me ne sono manco accorto cinque cinque ventotto mila no che vergogna vergognati ma poi di quelle ma in teoria di quelle ce ne sono tante che sappia io e una non ne ho viste per cui non mi sembrava quella giusta che fregatura ma porco di quello ma perché io stavo cliccando in quel momento e che l'hai detto tu e non non c'era niente vabbè stacchiamo c'è una c'è una dai dai